Veneto terra di eccellenza anche in campo genetico, a testimoniarlo il lavoro di Intermizoo, società controllata da Veneto Agricoltura e Arav, che da oltre 50 anni lavora al miglioramento del patrimonio genetico zootecnico. Invitiato a livello mondiale, il centro di Valle Vecchia Caorle, che ospita Miura, fuoriclasse dei tori da riproduzione, al primo posto nella classifica globale. Siamo arrivati a questo risultato con la dedizione, ricordo che questo centro nasce nel 1974, l'attuale ovviamente non è quello originario, da un po' di anni sono qui presso l'azienda di Valle Vecchia, stiamo sempre parlando di proprietà della regione e penso che la determinazione, la professionalità, la voglia di fare, l'avete visto anche la modalità di allevamento di questi tori e ci porta ad essere oggi i primi a livello mondiale. Si considera che questo centro di Intermizoo produce circa 1.200.000 dosi di seme che vanno in 55 paesi del mondo e ovviamente oggi sono oggetto di allevamento, di studio, di approfondimento genetico 230 tori. Uno studio che ha anticipato i tempi di almeno 10 anni, stimando per ogni vitello un valore genetico, un dato che ha permesso di selezionare i migliori tori per la raccolta del seme e un tracciamento che prosegue a livello globale anche nelle mucche da latte nate appunto dall'esportazione del seme stesso. Tra le innovazioni assolute presentate nel 2021, l'indice ProCaseus, una variabile nata per misurare la qualità del latte partendo dai tori riproduttori. Fino ad oggi la genetica ha lavorato per produrre animali efficienti e far funzionare bene gli allevamenti. Con ProCaseus facciamo il salto che è quello in cui la genetica produce animali che sono in grado di fare un latte migliore per l'industria di trasformazione e di conseguenza anche per il consumatore perché stiamo parlando di un processo e di un tipo di genetica che darà un impatto importante anche sulle questioni ambientali e sulla riduzione degli sprechi e su tutta una migliore efficienza di tutta la filiera lattiero-casearia. Ricordo che il focus non è più produrre di più, di più, di più, ma è produrre in maniera sostenibile. Credibilità e fiducia, qualità che Intermizzo ha costruito nel tempo grazie ad un servizio di massima eccellenza nel comparto e ad una ricerca settoriale che da oltre 50 anni coinvolge l'Università di Padova. Oggi qui con Intermizzo, con il progetto Casius e così via si stanno già certificando un altro tipo di qualità del latte. Una qualità del latte che non guarda la quantità ma guarda la capacità dello stesso di trasformarsi in formaggio e di farlo con allevamenti sostenibili e quindi non più con bacche solo ed esclusivamente mirate alla quantità di latte.